Siamo qui al Teatro Comunale Testoni di Casalecchio di Reno insieme a Luca Riello, vincitore della seconda edizione di Musico contro le mafie con la canzone Lettera alla mia terra Ci vuoi parlare un po' di questa canzone, com'è nata? Cosa ti ha spinto a scrivere questa canzone? Una canzone che nasce da un articolo scritto da Roberto Saviano dopo la strage di Castelvolturno dove il gruppo di fuoco di Setola ammazzò questi ragazzi africani quasi come un atto terroristico Nasce chiaramente da un forte senso di rabbia però la particolarità di questa canzone, del testo è proprio quella che continua a ripeterti come te la immagini ma tu come te la immagini cioè ti stimola proprio a immaginarti una realtà diversa e a non chiuderti nella rassegnazione di una realtà negativa, scura Comunque la tua musica diciamo che è molto incentrata sulla denuncia su queste questioni legate alla mafia ci vuoi parlare un po' di questa scelta artistica? Ma guarda, al di là della scelta artistica io la vivo in maniera molto naturale questa scelta nel senso che credo che se per esempio c'è una donna bellissima però questa donna ha una gamba in cancrena tu non riesci a soffermarti solo sulla sua bellizza ma anche su questa cosa che in qualche modo gli porta a un malessere totale una distruzione totale di tutto l'organismo quindi per me parlare di certe cose significa vivermi con naturalezza una realtà che abbiamo che magari invece far finta che non esista è grave insomma, è una cosa terribile Credi che la musica sia un modo più diciamo più coinvolgente di relazionarsi con un pubblico rispetto a questi argomenti rispetto ad altre forme di comunicazione tipo teatro oppure magari scrivere un libro quale pensi che sia la più efficace? Parlando rispetto a mia esperienza personale ci sono state canzoni, delle strofe che mi hanno parlato più di qualsiasi sermone o di qualsiasi professore, maestro che mi abbia detto delle cose la musica ha questa capacità di entrarti dentro di toccarti il cuore perché è un cuore che vibra e quindi per simpatia far suonare un altro cuore quindi sicuramente c'ha una forza un'energia diversa onestamente credo che magari ascoltare una canzone che ti dice delle cose sicuramente ti può far avvicinare più facilmente a questi temi che magari andarti a sentire un pippone di due ore dove ti racconta che va benissimo la denuncia dal punto di vista scientifico dal punto di vista del lavoro di tutti quelli che stanno a raccontare però raccontare attraverso un romanzo attraverso una canzone attraverso una forma artistica che rende più accattivante anche un discorso pesante come quello delle mafie come quello della criminalità in generale sicuramente è uno strumento interessante uno strumento forte per concludere volevo sapere se questa iniziativa ti era sembrata valida e ti aveva insomma soddisfatto sì no questa iniziativa sicuramente è molto bella è molto coinvolgente il fatto comunque che si è organizzato così magari in un posto dove il tema delle mafie magari non è vissuto nella quotidianità come giù da noi però magari è molto presente ai piani alti se vogliamo dire così quindi è importante proprio riuscire a portare ovunque questo tipo di tematiche e soprattutto nei posti dove magari non si sente così vicina a questa cosa con questo album che abbiamo realizzato i nuovi mille che è legato ai mille ai 150 anni eccetera stiamo praticamente raccogliendo i fondi che andano alla fondazione Polis che è questa fondazione che si prende cura delle vittime innocenti di criminalità e lo scopo di questa raccolta fondi è quella di realizzare una radio libera su Napoli quindi chiaramente su Napoli e in campagna in generale c'è un movimento di radio di cantanti neomelodici eccetera che sono spesso legate anche al mondo della criminalità anche le canzoni che senti spesso fanno dei discorsi di apologia proprio nei confronti della criminalità quindi l'idea invece è proprio quella di realizzare una radio sul territorio che porti proprio i temi contro le mafie i temi della legalità sul territorio nelle case delle persone